Salve ragazzi, questo è solo un breve video di aggiornamento, ho dovuto rimandare indietro la lente Sigma però adesso ho ricominciato a usare la lente che usavo prima ho mandato a prendere la nuova lente da Panasonic, mi dovrebbe arrivare martedì quindi martedì riprenderò a fare video aggiornamento per il contest, purtroppo non sono arrivato a 20 partecipanti minimi richiesti quindi sono costretto ad annullarlo e riproporò il tutto magari più avanti tra qualche giorno, qualche settimana, non so, vediamo Saluti